Tribuno Sonera, amiche e amici del Marietto, buon 7 di ottobre a tutti e a tutti e bentornati e bentornati a questo nuovo appuntamento con il vostro Marietto Milanista. Prima di iniziare come sempre Marietto Milanista Facebook, Instagram, Planeta Libre TV che è l'altro mio canale Libero Alternativo, tutti i link sono qui in basso in descrizione. Dopodiché ricordarvi e soprattutto ringraziarvi di seguire il mio caro amico Fabio del Diavolo Veste Milan e ringrazio tutti coloro che ieri hanno partecipato a questa bellissima live. Per chi non l'ha vista invito ad entrare nel canale del Diavolo Veste Milan e guardarla perché ieri abbiamo parlato a 360 gradi di un sacco di argomenti che riguardano il Milan, calciomercato e altre altre cose, altre questioni. Detto questo come sempre prima di iniziare a parlare degli argomenti di oggi tocca a voi, cioè io prima di tutto inizio con voi quindi con il vostro commento del giorno prima come sempre ne scelgo uno e quello che ho scelto oggi è di rosso e nero che mi dice il Milan agito con intelligenza e oculatezza, non scordiamoci gli ultimi otto anni, una grande squadra non si costruisce una sessione di mercato e noi stiamo costruendo finalmente con pazienza una grande squadra di giovanissimi che saranno presto dei campioni, te lo dice uno che segue il Milan da lontano 1959. Abbi fede, siamo sulla strada giusta, forza Milan sempre e comunque io aggiungo ovunque. Grazie caro rosso e nero, non devi convincere me ad avere fede, io ho fede, lo sto dicendo in lungo e largo da tempo, da mesi quando parlavo della continuità di Pioli che alla fine mi sta dando ragione, cioè quando uno capisce di calcio, ma non perché, perché sono da 40 anni nel calcio, ho giocato, ho allenato, ho sempre seguito, cioè campionato, vivo all'estero, seguo lighe di qua, liga spagnola dove vivo, liga inglese, l'italiana in tutte le sue sfaccettature, A, B, C, D, cioè da sempre, da quando sono bambino, quindi non me lo venire a dire a me, dillo ai lamentoni che probabilmente hanno mai visto il Milan in Serie B come me e come te, o un fallimento che c'era dietro questa Serie B che fortunatamente il Milan poi è stato anche acchiappato dopo che Giuppi Farina a suoi tempi faceva le sue belle cazzate e finalmente è arrivato poi Silvio Berlusconi e probabilmente molti di voi si sono, diciamo, sollazzati su questo berlusconismo, però le cose sono cambiate già da dieci anni e quello che sta succedendo adesso è qualcosa che a me sta molto bene, è vero, sono rimasto con la mare in bocca, l'ho detto anche due giorni fa, speravo perlomeno un difensore centrale, è andata così, vediamo a gennaio se possiamo fare qualcosa al rispetto. La cosa però che più mi preoccupa in questo momento, quindi per agganciarmi al discorso che volevo parlare oggi del Milan, riguarda il nostro turco a Cancia Lanoglu, ossia che c'è un'ampia distanza tra la domanda e l'offerta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiochini ha parlato delle situazioni, chiaramente che adesso sono calde, tanto di Gigio e sappiamo che potrà iniziare una telenovela come già tre anni fa, piuttosto che Cialanoglu. E dice, scusate, concluso il mercato dei trasferimenti, in casa Milan comincia il mercato dei rinnovi di Donnarumma e Cialanoglu. Le situazioni dei due giocatori sono identiche nella forma ma diverse nella sostanza. Il 30 giugno entrambi i contratti scadono, ma a differenza del turco Donnarumma è cresciuto al Milan, si sente milanista e vuole rimanere a tutti i costi. Il Milan vuole tenerlo e prima del derby ci potrebbe essere un nuovo incontro con Raiola per trovare un'intesa comune, anche perché dal primo febbraio il giocatore potrebbe accordarsi a zero e non dobbiamo assolutamente arrivare fino a quella data in questa condizione. Per Cialanoglu invece la situazione è diversa, non è un giocatore più giovanissimo e ha magari determinate ambizioni per la carriera come giocare da protagonista in Champions League. Sappiamo che ci sono squadre interessate a prenderlo da svincolato come la Juventus e l'Atletico Madrid. La distanza tra quello che chiede Cialanoglu e quello che offre il Milan è molto ampia e al momento non ci sono grandi possibilità che Cialanoglu rinnovi il contratto con il Milan. E questo ne ha fatto tre male. E' chiaro che poi si rivedranno con la gente del giocatore nelle prossime settimane, ma non è escluso che se dovesse arrivare un'offerta gennaio, il giocatore potrebbe partire. La bomba! Cioè noi potremmo perdere a gennaio già a Cialanoglu. Adesso che è il perno della manovra del Milan e del laccio tra centrocampo e attacco, adesso che veramente si può dire abbiamo un numero 10, vero? Adesso che tutti i meccanismi stanno cominciando a prendere una certa forma, questo tipo di notizie, un po'. Io sono convinto che innanzitutto il Milan adesso lavorerà, che penso è la priorità anche per noi milanisti, soprattutto sul discorso Gigio Donnarumma. Vediamo se la sparata dei 10 milioni che parlavamo un mese fa siano solo parole, parole, parole e fuffa o anche c'è del vero. Io mi auguro sinceramente che tanto l'uno che l'altro possano rinnovare. Chiaramente dobbiamo vedere a quali condizioni. Gigio è un prospetto da qui a 20 anni, se lo vogliamo vedere anche con l'età di Buffon che ha 42 anni, Gigio non ha 21, quindi altri 20 anni potrebbe essere il portiere tanto del Milan che della Nazione Italiana. Quindi su di lui io cercherei anche di ragionare in un altro modo al momento di poter aumentare eventualmente l'ingaggio. Come già detto in altre occasioni, io mi toglierei il milioncino di Antonio Donnarumma che si va fuori di ball, quindi da 6 lo alzerei a 7 ciò che vorrebbe Gigio e eventuali bonus. E cominciare in questo modo. Poi, se da 7 lo vuoi portare a 8, ancora ancora. Però già poi sui bonus ragionare in un altro modo. Quindi io, da quel punto di vista, probabilmente Gigio, per quanto è duro il discorso con Mino Raiola, se c'è la sua volontà veramente a milanista, si può anche chiudere. Sul discorso di Ciananoglu ho dei miei seri dubbi. Ho dei miei seri dubbi per quanto lui ha dimostrato di voler rimanere, giocare nel Milan, si trova bene. Adesso che finalmente ha trovato anche lui una quadra in questo Milan alla fiducia dell'ambiente, se dovesse andare via così a gennaio, ragazzi, siamo a punte da capo. Perché poi, anche per il Milan, è un grave problema rimettersi sul mercato e trovare a gennaio un giocatore a livelli, in questo momento, di Ciananoglu. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti qua giù in basso, però l'altra notizia che riguarda il nostro Milan oggi è che, da una notizia che arriva dal The Sun, dalla Gran Bretagna, Celtic-Milan c'è il rischio che la gara venga sospesa. Perché? Praticamente l'emergenza di questo virus, anche nel mondo del calcio, chiaramente non è che è stato esente da tutta questa farsa. In questo senso, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, il Milan potrebbe vedere posticipato il suo debutto in Europa League proprio a causa di questo virus che è imperversa in tutto il mondo, che sta facendo milioni di morti che stanno cadendo come le mosche, che questo lo dicono solo i giornali, perché poi quando vai a vedere nei siti web dei ministeri della sanità in Italia, della salute, là in Italia, che qua in Spagna, ci sono stati molti più morti negli ultimi cinque anni ogni anno di influenza che non di questo virus. Quindi chi ne va a trarre sicuramente beneficia di tutta questa cosa, però in Italia il signor Agnelli che ogni giorno va tirando fuori 27 milioni di mascherine per il governo italiano. Ecco, quindi a parte le case farmaceutiche, le big pharma, che hanno grandissimi interessi per arrivare a un vaccino, i tamponi, e quindi fuffa ragazzi, fuffa, da che mondo in mondo sempre abbiamo vissuto a contatto con virus e anche molto più letali. Però ormai la commedia deve andare avanti, come sembra, vediamo quando finisce tutta sta grande buffonata e il Milan potrebbe vedere appunto posticipato questo debutto in Europa League e quindi il 22 ottobre, che sarebbe la data per giocare in Scozia contro il Celtic, potrebbero non partire alla volta di Glasgow a causa di un mini lockdown che è stato ordinato in questi giorni dal governo scozzese a causa di una forte risalita dei casi, che poi la maggior parte, come abbiamo visto tanto in Italia che in Spagna, sono asintomatici. Punto. Qualora la gara non si giocasse, la sfida potrebbe essere recuperata alla prima data disponibile secondo il calendario della UEFA. Adesso voglio un attimino, che so che siamo al minuto 10, però almeno un minuto a ragionare su questa cosa qua. In Italia anche Mancini è andato contro il ministro della Salute Speranza e dice che a volte bisogna pensare prima quando si parla, quando il ministro diceva che a proposito c'è troppa attenzione attorno al calcio e lui dice bisogna pensare prima quando si parla, lo sport è un diritto come la scuola e il lavoro. Non è una cosa che ci viene data così, lo sport è praticato da milioni di italiani a tutti i livelli. La mia idea rimane quella che ci possono essere persone a vedere le partite, dice, aggiunge, e criticando quei mille che vengono. In quasi tutta Europa hanno parzialmente riaperto, sabato a Danzica ci saranno 10.000 persone e ne siamo contenti. Capite che dietro questa storia ci sono interessi molto più grandi che non la salute, perché i numeri non danno per lockdown, per mettere mascherine, cioè sempre ci siamo dovuti proteggere da dei virus anche molto più potenti, come la malaria, l'ebola, la viaria, però abbiamo capito che qua dietro c'è tutto un piano bello premeditato, perché mai è successo una cosa così a livello mondiale. Io sarei il primo a preoccuparmi se veramente questo virus fosse così letale, però non è così ragazzi, non è così, è un virus probabilmente un po' più... cioè ne è uscito fuori Briatore, ne è uscito fuori Berlusconi, che ha avuto addirittura a cuore aperto, ne avevano fatto un'operazione e non è morto, è uscito fuori De Laurentiis. Adesso Trump che sta dicendo anche, dice adesso tra poco tireremo davvero la verità su quello che c'è dietro il coronavirus, quindi preparatevi a un autunno caldo a tutti i livelli. Mentre il ministro Spadafora fa avanti e indietro con le sue dichiarazioni, ma questo è un discorso che affronteremo in un altro video, se ne avrò voglia, soprattutto perché questo discorso a me sinceramente come essere umano, non so voi, mi sta stufando, perché ormai non ci sono più morti di tumori, di AIDS, leucemie, cancri e altre cose, tra l'altro con persone anche conosciute e care che in questi mesi non hanno parlato niente di questo però tutto si affibbia con Covid, 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 quando poi andiamo a vedere i numeri che non danno adito a questo terrore che stanno creando, per il semplice fatto che sono numeri ridicoli per creare questa, questo allarme. Che bisogna avere attenzione, abbiamo dovuto avere attenzione, sì, ma come per qualunque virus, per qualunque malattia e qualunque tipo di catastrofe che possa succedere, ma adesso si sta esagerando, davvero. Ditemi voi cosa ne pensate qui in basso nei commenti, mi raccomando ragazzi come sempre iscrizione, campanile attiva, like di sostegno e condivisione ai vostri social, per me è una grande benedizione e chiudiamo qua. Magari più tardi se avrò tempo e opportunità approfondirò questo discorso appunto anche della proposta che è stata fatta sulla Serie A rispetto a nuove forme con playoff, playout, sarà un'altra farsa anche quest'anno, molto probabilmente. Che Dio ce la mandi buona. Forza Milan, ovunque e comunque, e ci vediamo alla prossima. Ciao!